Gazzotti Dopo due vittorie consecutive arriva un po' uno stop, guardando un po' il trend della vostra stagione, due vittorie in trasferta e invece il successo in casa che ancora manca Secondo me abbiamo iniziato la stagione molto bene, oggi potevamo tranquillamente vincere la partita, abbiamo perso all'ultimo tiro quindi credo che dobbiamo continuare su questa strada e possiamo fare bene su tutti gli effetti del campo Prossima partita andate a Caserta che ha vinto e quindi sarà una partita difficile anche perché ha giocato in trasferta Sì, Caserta è sicuramente un campo molto difficile però noi andiamo giù con delle convinzioni che stiamo costruendo giorno per giorno, è arrivato Cusin che ci darà una mano, sono convinto che potremo fare bene anche sul campo di Caserta Ecco, ultima domanda, come hai visto Cusin alla prima in casa? No, Marco sicuramente adesso è arrivato, non è semplice inserirsi così subito in un sistema di gioco come il nostro però credo che se continuare a lavorare così sarà solo utile a noi, comunque nel complesso l'ho visto bene Grazie mille Ciao, ciao